Debo leggervi un messaggio di Patrizia Conte che non sta molto bene quindi non ha potuto partecipare. Riguardo il seminario teosofico piemontese che è stato tenuto a Torino in gennaio. Il tema era quello che quest'anno tutti ci coinvolge, quello dell'arte intitolato Arte e Teosofia, il processo creativo come risveglio della coscienza. Il 29 gennaio si è tenuto a Torino, mi scrive, presso la sede della nostra società teosofica italiana di Grosso Regina Margherita, il seminario teosofico dal titolo che vi ho appena detto. L'evento ha visto un'ampia partecipazione, i presenti erano più di 40, a cui si è aggiunta una notita partecipazione anche su Zoom. In questo momento in cui il nostro gruppo cerca di rafforzarsi e riorganizzarsi siamo stati molto confortati da questa numerosa adesione. Io mi ricordo il gruppo di Torino con più di cento iscritti e quindi adesso mi telefonava l'altro giorno Patrizia, contentissima, abbiamo una nuova socia. Io ho detto accidenti, siamo aumentati del 20%. E sì, è così. La realizzazione del seminario è stata resa possibile dall'impegno congiunto di tutti i partecipanti, fra i quali ricordiamo e ringraziamo Enrico Sempi e Delela Radovics, che hanno realizzato la locandina e la nostra segretaria Maria Grazia Chiotti, il cui solerte contributo è stato al solito preciso e prezioso per l'organizzazione e la preparazione degli spazi in cui si è svolto l'esempio, l'evento. La prima relazione del seminario è stata quella di Pier Giorgio Parola, arte o teosofia, il processo creativo come risveglio della coscienza. Si tratta un po' di quella che ho letto venerdì, l'avevo tagliato un po' per farla entrare, nei venti minuti. Pier Giorgio Parola qui dice, è all'interno del gruppo teosofico di Torino la nostra guida effettiva. Pier Giorgio è uno studioso del pensiero teosofico da più di 60 anni ed è attualmente impegnato, direi sette giorni su sette nel lavoro di insegnamento e approfondimento della letteratura teosofica, in particolare della dottrina segreta. A parte la geografia, concordo sui 60 anni. Nella sua relazione Pier Giorgio ha parlato del processo creativo degli artisti, cercando di spiegare come questo processo venga consentito dallo sviluppo secondo il processo insegnato dal sistema blavaskiano, da quello che possiamo chiamare talento. A seguire Elena Radovi ha presentato la relazione dal titolo Arte e spiritualità, arte come assesa spirituale. Elena è un'artista, è laureata in scultura e pittura all'Accademia di Torino, madre di due figli. Ha seguito per anni le conferenze del teosofo Bernardino del Boca. Nella vita ha cercato le situazioni, i luoghi e le persone che potessero dare risposte alla sua ricerca interiore. Inoltre, attraverso la presentazione del commento di alcune grandi opere d'arte, ci ha accompagnati in una bella riflessione sulla relazione fra la bellezza e la spiritualità. Una terza relazione è stata curata da Jean Lerda, iscritto al gruppo di Cuneo dal 1991. È un insegnante in pensione di figura e ornato, modellato ed educazione visiva presso il liceo artistico di Cuneo, studioso di astrologia karmica e allievo della scomparsa e compianta Cesarina Montà, fondatrice del gruppo di Cuneo. Io la ricordo bene, una teosofa veramente straordinaria. Noi anziani la ricordiamo con tanto affetto. Il gruppo teosofico di Mondovì ha presentato la relazione dal titolo La bellezza come aspetto finale del processo creativo. Contribuisce al risveglio della coscienza collettiva. Il professor Jean Lerda, nella sua relazione, ha esposto una sua profonda riflessione in cui ha sottolineato l'importanza dell'arte come strumento indispensabile per la presa di coscienza di una realtà superiore rispetto alle condizioni umane ordinarie. È seguita una relazione a cura di Marina Tappa, del gruppo teosofico del Boca, maestro del villaggio verde. Il tema era il seguente, Bernardino del Boca, maestro del collage. Marina si è laureata in storia dell'arte con la tesi favola, storia e moda nel costume teatrale dell'Ottocento. Da Bernardino del Boca, negli anni settanta, ha preso la tecnica del collage e da allora si dedica a questa attività creativa con cui produce quadri e ridà nuova vita ad oggetti mobili. Marina ha da poco concluso la sua carriera di insegnante ed ora ama alternare il proprio lavoro creativo con l'impegno nella ricerca in ambito artistico e la pubblicazione di testi critici che vengono editi dalla Fondazione Bernardino del Boca. Nella sua relazione ci ha accompagnati in un bellissimo viaggio fra i collage di Bernardino del Boca dando un'interessantissima spiegazione delle tecniche utilizzate e soprattutto illustrandone i profondi significati racchiuse in ogni dettaglio delle opere presentate. Infine, a conclusione del seminario, Rita Selicati ci ha presentato la relazione dal titolo Arte della costruzione del Tempio, modello del Tempio interiore. Rita Selicati è la segretaria del nuovo Centro Studi Teosofici La luce sul sentiero di recente costituzione e anch'esso operante nell'ambito torinese. Rita è dedica al servizio della Società Teosofica Italiana e dallo studio della teosofia ormai da qualche decennio ed è inoltre un'esperta ed apprezzata studiosa di astrologia. Ci teniamo molto a ringraziare per aver accettato di presentare questa relazione, malgrado sia impegnata molto, anche perché è un fantastico nipotino. La relazione, dopo una riflessione sulla sacralità del Tempio in ogni luogo e cultura, riprende il testo di Annie Besant, il Tempio interiore, nell'edizione italiana in cui Annie Besant spiega la via per la costruzione di un Tempio interiore. In questo libro si descrive un lungo cammino di liberazione che può durare parecchie vite. Tra l'altro, nella sua conferenza, Rita ricorda che Annie Besant scrisse che quel Tempio rappresenta la fine del peregrinaggio e che coloro che lo hanno raggiunto ed hanno finito il viaggio rimangono a dare aiuto a coloro che ancora stanno salendo. La costruzione del Tempio interiore prosegue per gradi e tappe e da concepirlo come il viaggio di un pellegrino. Le vighe iude. Bene, questo è quanto ci dice la nostra Patrizia, a cui penso che faremo tanti auguri per la sua salute. Grazie. Grazie.